Il dilemma di questa prima corsa che dà anche il via alla riunione partiti In vantaggio cross out davanti a Charles Henry, grande mago Sae Liu, Tiki, Toffi e segue staccato Sitapur All'inizio della curva in vantaggio cross out davanti a Charles Henry Grande mago, Sae Liu, Tiki, Toffi e Sitapur Poco prima dell'ingresso indirittura cross out e Charles Henry conducono davanti a grande mago e Sae Liu I cavalli entrano indirittura con cross out in leggero vantaggio davanti a Charles Henry Grande mago, Sae Liu, Tiki, Toffi passa a Charles Henry davanti a cross out, Chastening Grande mago, Tiki, Toffi e in vantaggio Charles Henry davanti a cross out, Tiki, Toffi e Chastening E' facile Charles Henry davanti a cross out e Chastening E' facilement Grazie a tutti. Grazie a tutti.